Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video, siamo qui oggi in questa nuovissima guida pronti ad andare a vedere come da titolo come recuperare l'arma unica autorità virtuosa quest'arma che ci verrà consegnata dal paladino dance una volta che completiamo la prima missione, la prima quest della confraternita d'acciaio allora per iniziare il tutto come vi ho mostrato dobbiamo dirigerci verso Cambridge, una volta che stiamo nelle vicinanze avremo la possibilità di selezionare la frequenza radio militare AF95 mi raccomando selezionatela, sentite l'audio e quindi la richiesta d'aiuto da parte della confraternita d'acciaio, aiutateli, parlate con paladino dance che vi darà subito una missione vi dirà di seguirlo finché non arrivate all'Ark and Jet System, arrivati qui dovete entrare, uccidere tutti i sintetici all'interno finché non arrivate in questo luogo allora qui abbiamo la possibilità di andare a recuperare un'altra arma, un'arma che però non è considerata unica però se volete potete recuperarla, sta qui su questo tavolo, si chiama Junk Jet come state vedendo dalle immagini fa parte di una collezione quindi perché no non recuperarla continuate la missione, seguite il paladino dance e finché non arrivate in questa stanza uccidete quel sintetico e recuperate il trasmettitore ad ampio raggio, consegnatelo al paladino e vi darà autorità virtuosa i colpi critici infliggono danni doppi e la barra di critici si riempie più velocemente io spero che con questo video vi sia stato utile, vi ricordo sempre di lasciare un bel mi piace, un commento iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e ci vediamo ad un prossimo video, ciao!